Battuto alla auto, su Pato Dalmas, resiste a Bertè, Pato, sponda, Marta, non la tiene, poi vince il rimpallo, Franco! Franco! Ma che cosa ha preso Franco? Due volte, calcio ad angolo! Il pallone è dentro per Vanessa, l'appoggia per Griego! E ancora Margarito! È in corsa della numero 27, contro Oselame, il calcio alla parata di Oselame, sulla ribattuta, arriva primo il bisceglie! Grazie a tutti!